Musica L'incontro di questa sera è stato voluto dal professore Caligiuri ed ha per tema i comuni riserva della Repubblica un tema attualissimo e appassionante soprattutto per noi che viviamo in un piccolo comune come ce ne sono tanti e che rappresentano secondo noi i pilastri sia delle regioni che dell'intera nazione e nessuno meglio del Vice Presidente del Senato, il Senatore Gasparri poteva rappresentare la nostra esigenza cioè quella di comunicare al Presidente della Repubblica a tutto il Parlamento italiano il problema della grande difficoltà che stanno attraversando i piccoli comuni al fine di scongiurare la loro fine quei piccoli comuni che secondo noi invece rappresentano un presidio fondamentale di tutta la nazione e come il Presidente della Repubblica stesso ha definito in un recente incontro sono indispensabili e fondamentali per il Paese Italia a tutti i piccoli comuni che stanno attraversando i piccoli comuni